Buon pomeriggio cari amici, oggi parliamo di attaccanti perché il mercato che sta vivendo fasi molto calde e anche piuttosto complesse per non dire confusionarie in certi casi ruota ruota da giorni e ruota nello specifico in queste ore attorno a uno strano ballo di punte che continua a non essere prevedibile prima che porta anche delle sorprese che dà la sensazione di essere orientato più che da volontà, da progettualità, dall'opportunità di arrivare a delle occasioni perché in fin dei conti abbiamo parlato per diverse settimane, per diverso tempo del nuovo centravanti della Juve, eravamo arrivati a sapere che la scelta sarebbe stata fra Dzeko e Suarez, ci siamo sprecati in discorsi su chi fosse meglio, quale fosse la soluzione migliore, alla fine alla Juventus non è arrivato nessuno dei due, è arrivato, o meglio è tornato Alvaro Morata che può dare superficialmente un po' la sensazione di mossa di ripiego, lo è ma non lo è, quindi voglio analizzare la figura di Morata in relazione a questo suo ritorno alla Juventus e a quello che può dare, deve dare alla squadra di Pirlo. Nel frattempo Luis Suarez si è accordato con l'Atletico Madrid e questa dal punto di vista calcistico è un'operazione molto molto intrigante, è una destinazione anche affascinante per la carriera del pistolero che però purtroppo in questo momento è anche coinvolto in un caso che con il calcio non c'entra niente e di conseguenza mi interessa poco approfondire su questo canale, nella nostra community, in quella che è una comunicazione e una voglia di dialogare sugli aspetti prettamente sportivi, però è una situazione che sta prendendo le prime pagine dei giornali e che di conseguenza entra in tutto questo discorso. Parleremo anche di questo ma ve lo dico già, parlerò di Suarez dell'Atletico Madrid, molto più in chiave calcistica che non riguarda questi aspetti e sullo sfondo di questa situazione di attaccanti rimangono altre due punte, altre due punte molto importanti che in questo momento sembrano essere rimaste un pochino con il cerino in mano, sono Geko e Milik per i quali ci saranno soluzioni differenti perché per quanto riguarda Geko la sensazione più forte è che a questo punto rimanga un'altra volta alla Roma, vedremo come in una Roma che oltretutto ha tantissimi problemi da affrontare in questo momento anche al di là della situazione del suo capitano e invece Milik è uno che a mio modo di vedere difficilmente potrà rimanere a Napoli, anzi reputo quasi impossibile, una permanenza di Milik per quelli che sono gli sviluppi del progetto del presidente dell'Aurentis e soprattutto di Rino Gattuso e anche per quelle che possono essere l'opportunità per l'attaccante polacco, per cui adesso parliamo un po' di questi attaccanti. La notizia, la notizia forte è che la Juve ha scelto il centro avanti e si tratta di Alvaro Morata, un ritorno per l'attaccante spagnolo, un altro cambio di maglia per lui, leggevo che nella sua carriera a livello di cifre spese per i suoi trasferimenti Morata ha già movimentato oltre 200 milioni di euro, è quasi un record, però ci dice anche che questo ragazzo uscito dal settore giovanile del Real Madrid, presentatosi fortissimo nei suoi primi anni, sia nei suoi esordi in maglia bianca che soprattutto nel suo primo ciclo alla Juventus, poi non ha trovato una stabilità, ha avuto chance differenti, è tornato a Madrid, è andato in Inghilterra, è ritornato ancora a Madrid ma con l'altra casacca e seppur con passaggi efficaci, con passaggi positivi, non è mai riuscito a stabilizzarsi, tant'è che questo ritorno alla Juventus di Morata è anche legato al fatto che all'Atletico Madrid non aveva più la certezza di essere il titolare, di essere un punto di riferimento in attacco, una situazione che si è abbastanza verificata e acclarata anche negli ultimi passaggi della stagione scorsa. La partita di Champions League con Illipsia ha visto Morata andare in panchina e in generale la parte finale nel post-lockdown ha visto Diego Costa superare nelle gerarchie del Ciolo il nuovo attaccante della Juventus. Da qui anche il pensiero di Morata di non chiudere la porta, anzi di spalancarla a un addio e a un trasferimento alla Juventus. Cosa porta Morata alla Juve di Pirlo? A questa Juve che abbiamo visto debutare, ribadisco la mia sensazione, in modo molto positivo contro la Sampdoria perché al di là dell'avversario, al di là di tutte le dinamiche, tutte le contingenze portate da questo debutto in campionato, io era un po' di tempo che non vedevo una Juventus così focalizzata, così affamata, così attaccata ai dettami del proprio allenatore, quindi io continuo a vederlo come un debutto estremamente positivo, quello della Juventus. Pirlo lo aveva chiarito, ci vuole un centravanti, un elemento che vada a completare un reparto con tante figure differenti e tante possibili morfologie seppur orientate ad un'idea di gioco piuttosto precisa, ovvero quella di avere una punta e avere dei giocatori che arrivano a sostegno, che sappiano connettersi, che sappiano anche magari un po' scambiarsi e che sappiano essere una macchina offensiva molto corposa perché poi l'idea di Pirlo è anche quella di avere due giocatori a sostegno dal centrocampo, insomma di attaccare sempre con almeno cinque uomini, addensando anche la zona definitiva con il rischio poi magari di andare a sbattere contro qualche muro o di esporsi troppo al contropiede, ma è un discorso più ampio, l'abbiamo fatto e lo rifaremo a seconda dei momenti a seconda di quello che ci dirà il campo. Cosa ci si può aspettare da Alvaro Morata? Ci si può aspettare un attaccante che dal punto di vista delle caratteristiche sembra assolutamente adatto a questo tipo di idea di calcio, perché Morata è una punta, è un nove, ma è un attaccante estremamente completo che può posizionarsi in diversi punti e può svolgere diversi compiti. È stata ritirata fuori una definizione completa e celebre di quello che è stato il suo allenatore che lo ha visto e lo ha fatto rendere meglio, ovvero Allegri che appunto ha detto che Morata sa fare bene o male tutto nel comparto offensivo. È un attaccante che vive e ragiona e gioca soprattutto sul concetto di verticalità, è un giocatore che va a creare e ad aggredire la profondità, concetto esposto in maniera molto diretta e chiara da Pirlo nella sua tesi. È un giocatore che allunga la squadra nel momento della costruzione, quindi orientato appunto all'attacco della profondità sia corta che lunga. Io sto citando le parole e i concetti espressi dalla penna di Andrea Pirlo nella sua tesi al Master di Coverciano. È anche un giocatore che comunque sa associarsi con il resto della squadra, anche se quello che è il tipo di dialogo che Morata offre nell'azione, nell'interazione con i compagni, è un dialogo fatto soprattutto di sponde più che di lavoro del pallone, stop difesa e rifinitura, anche se può farlo. Io ricordo nella stagione scorsa una sua prestazione molto positiva nel derby contro il Real Madrid, tant'è che nel momento in cui si fece male e dovette uscire, l'Atletico finì, perché non riuscì più a trovare un punto di riferimento al quale affidare il pallone in avanti, che riuscisse a pressare l'avversario, altra cosa che Pirlo cerca molto, ma anche a tenere sulla squadra, a permettere alla squadra di salire, per cui ha anche la capacità di difendere il pallone. Però appunto il suo orientamento nel dialogo tecnico è un orientamento più portato alla sponda di prima per andare alla ricerca dell'1-2, quindi palla che arriva a Morata, Morata che gioca e Morata che va inevitabilmente ad attaccare la profondità e quindi a cercare il pallone di ritorno per poter essere lui il terminale, anche se poi è un giocatore che in carriera non ha mai offerto cifre realizzative spaventose nella stagione scorsa, Morata ha segnato 16 gol fra tutte le competizioni. Questo tipo di propensione lo renderebbe sulla carta magari adatto ad interagire con giocatori come Kulusevski, con giocatori come Dybala soprattutto, che possono essere spalle efficaci di Morata in questa ricerca ideale dell'1-2. Magari un po' meno con Cristiano Ronaldo, perché appunto Cristiano Ronaldo deve essere il protagonista assoluto e Cristiano Ronaldo che con lui ha giocato nel Real Madrid è uno che potrebbe vedere da Morata occupati certi spazi, anche se poi il lavoro di Pirlo è sicuramente teso al creare zone di influenza per tanti giocatori possibili all'interno dell'area di rigore. Anche questo ce lo ha detto e sta cercando di dimostrarcelo. Però Morata è uno che in area di rigore vuole andare a cercare lo spazio primario, anche perché è un buonissimo stoccatore, è uno che sa calciare con entrambi i piedi, nonostante non sia un attaccante estremamente ispirato in quella che è l'azione di preparazione del tiro, per farvi un esempio pratico. Il duello con il difensore puntato non è la specialità di Alvaro Morata perché tende magari ad inciampare un po' in certe scelte, in certi movimenti macchinosi, però se Morata deve tirare è uno che sa tirare bene e è anche un ottimo, un fortissimo colpitore di testa. E questo nel gioco che Pirlo cerca allargando, facendo arrivare i laterali, chiedendo anche agli esterni di aprirsi o comunque di convergere per dare spazio alla sortita di quelli che sono i giocatori di fascia, diventa una soluzione molto efficace. Morata è molto bravo soprattutto nel colpo di testa ricevendo il cross dal fondo. Una cosa che viene considerata primaria, ma che è un concetto un filino vecchio, perché nel calcio che si giocava fino a qualche tempo fa si è sempre detto che il cross più pericoloso è quello che arriva dalla linea di fondo. Vero, ma un po' meno vero nel calcio di oggi, dove i sistemi difensivi prettamente a zona consigliano a chi attacca di crossare, per lo più è un discorso che vi ho già fatto in altri video, dal vertice dell'area di rigore, possibilmente con il piede invertito, perché è la situazione che crea le migliori condizioni, le migliori spaziature per poter andare ad attaccare l'area. È la situazione che mette più in difficoltà le difese per il modo, diciamo, preponderante di difendere nel calcio di oggi. Detto questo, avere un colpitore di testa come Morata, che sa sfruttare molto bene la palla che gli arriva addosso, gli arriva incontro con il cross dal fondo, è una situazione che porta indubbiamente dei benefici. Quindi, questo è il quadro delle situazioni positive che Alvaro Morata porta alla Juventus con il suo ritorno in maglia bianconera. Dall'altra parte, ovviamente, ci sono anche dei punti di criticità, dei dubbi legati primariamente al fatto che parliamo di un ragazzo di 27 anni che, appunto, per questi numerosi trasferimenti, per questo rendimento un po' un divago, momenti di grande fulgore e momenti invece un po' di depressione calcistica, di incapacità di mantenere la continuità, non si è mai assestato, non ha mai sfondato. La parte migliore della carriera di Morata rimane in modo di vedere il suo primo ciclo juventino. Quando era giovane, quando si dimostrava un attaccante pronto a collaborare con figure diverse e anche ad essere un riferimento. Poi, dopo il ritorno a Madrid, l'esperienza col Chelsea, l'esperienza all'Atletico, lo hanno sempre visto come un protagonista incostante. Quindi, arrivando in questo momento, arrivando dopo tutte queste situazioni, dopo tutti questi discorsi, arrivando in una Juventus nuova ma chiamata immediatamente ad essere grande protagonista, non solo in patria, ma anche a livello europeo, quello che può essere il suo impatto mentale, quella che può essere proprio la sua statura temperamentale, è ovviamente un oggetto di dibattito e un punto di dubbio, comunque una situazione da dimostrare. Anche perché io ho sempre visto Morata, giocatore che a livello globale, ve lo confesso, mi piace, mi è sempre piaciuto e ho sempre pensato potesse diventare un giocatore importante. L'ho sempre visto come un attaccante che, come dicono in Spagna, ha illusion. Illusione è un termine che non ha una traduzione immediata e semplice in italiano. Spesso viene tradotto con illusione, ma è un termine sbagliato. Viene tradotto anche come sogno e qua ci avviciniamo un po' di più, ma non comprendiamo il concetto che il termine illusion ha nella lingua spagnola, perché è una cosa un po' a metà. Non è né un'illusione né un sogno, ma una sorta di fuoco sacro che ti permette sì di sognare, che ti porta più che ti permette, sì di sognare qualcosa, ma con la prospettiva che diventi qualcosa di reale, quindi non un sogno in senso stretto. Avere illusion vuol dire avere la missione, ma avere proprio questo tipo di pathos che ti spinge a piazzarti un obiettivo e a volerlo prendere con tutte le proprie forze. E io nel calcio di Morata ho sempre visto questo tipo di predisposizione. Però è anche vero che gli è sempre poi un po' mancata appunto la forza caratteriale di arrivare a concretizzare questa illusion. E direi che a 27 anni questa è la chiamata definitiva per la sua carriera, per il tipo di scommessa che la Juventus fa su di lui, ma anche proprio per gli oneri che vengono dati a questa figura di nuovo centravanti. Io credo che ci siano condizioni favorevoli per Morata, sia a livello di squadra, che a livello di allenatore, che a livello di ambiente. Perché Morata è molto legato all'Italia, conosce bene il mondo Juventus, è legato particolarmente anche a Torino, sicuramente la sua famiglia è contenta di ritornare in Italia e di ritornare a vivere in questa città, per cui problemi di ambientamento ne vedo pochi e comunque molto brevi. Il passo che deve fare Alvaro Morata è proprio quello di dimostrarsi caratterialmente in grado di essere un giocatore di primissima fascia, e questo lo vedremo con lo sviluppo della stagione e con quello che lui e la Juventus ci offriranno sul campo. Nel frattempo la certezza è che Morata è il giocatore individuato, scelto e preso dalla Juve per completare l'attacco di Pirlo. Chi invece alla Juve non arriverà, nonostante tutto quello che si è detto e tutto quello che si è fatto, è Luis Suárez, che di contro diventa il sostituto di Alvaro Morata all'Atletico Madrid. Faccio solo una chiosa leggera su quella che invece è la situazione extracampo che sta coinvolgendo Suárez, perché è qualcosa che con il calcio e con il giocatore uruguaggio centra poco. Con la sua figura qualcosina potrà centrare, però innanzitutto giudizi non ne do e soprattutto c'è un'indagine in corso da parte della Guardia di Finanza, per cui bisogna aspettare gli sviluppi e il lavoro degli inquirenti. Non è il momento di mettersi a dire cose o a cercare di individuare colpevoli piuttosto che figure danneggiate da questa situazione. Dico solo che, insomma, è un'immagine brutta, è un'altra situazione che non fa per niente onore al nostro paese, più che a Suárez, alle varie figure coinvolte o ai vari attori protagonisti. E quindi è un discorso che esula troppo dal calcio e lo voglio lasciare da parte, perché, come sapete, mi piace sempre parlare di cose che possano portare allegria, di cose belle legate soprattutto al mondo dello sport. Questa è una situazione di cronaca, è una situazione che seguiremo passo a passo e che comunque non c'entra molto con quello che vi voglio dire oggi. Voglio sempre parlarvi di calcio e il più possibile di campo. E allora vi parlo di questo accordo fra Luis Suárez e l'Atletico Madrid, un accordo anche turbolento perché il Barcellona, in questa sua fase estremamente, diciamo così, difficile, ha provato anche ad osteggiare. Ancora una volta si è dimostrato un po' impreparato il Barcellona a livello dirigenziale, a livello societario, di fronte a questa possibilità. Possibilità che alla fine sia concretizzata. E l'Atletico Madrid, in questo momento, con questo cambio di centravanti, ha inaugurato quelle che saranno due settimane molto dense, perché l'Atletico tornerà ad essere protagonista anche in Liga, debutterà finalmente, e soprattutto l'Atletico deve completare la propria squadra, partendo dal presupposto che gli ultimi due anni sono stati due anni di tentativo di cambio pelle, di passare da quella che è stata una squadra meravigliosamente eroica nel suo primo ciclo con il Cielo Simeone, poi i discorsi sullo stile sono stati tanti e, secondo me, in molti casi superficiali, leziosi e trascurabili. Ma quello che ha fatto l'Atletico Madrid nel suo primo ciclo ha i contorni veramente dell'eroismo e lo abbiamo celebrato tante volte. L'Atletico, dopo la fine di questo ciclo e l'abbandono di certe figure, di certi capisaldi, ha cercato un po' di rivisitarsi e non è riuscito, o quantomeno non è ancora riuscito, è un processo che chiaramente non poteva essere immediato. L'Atletico ha cercato di diventare anche bello, ha investito su giocatori di piede, lo stesso Morata, ma Lemar era stata una grande operazione, soprattutto Joao Felix, Lemar si è tramutato ormai in un flop. Joao Felix per me invece può avere ancora tantissime prospettive. Nel frattempo se ne è andato Griezmann, insomma sono successe tante cose attorno all'Atletico Madrid. Adesso l'Atletico deve completarsi in vista della stagione, quindi quel grandissimo dirigente che è Andrea Berta, il direttore dell'Atletico Madrid, un italiano del quale si parla troppo poco dalle nostre parti, io credo che Berta sia uno dei più grandi dirigenti che ci siano nel calcio mondiale, e purtroppo è un italiano che non lavora in Italia, ma lui ha trovato a Madrid la sua casa e il suo ambiente ideale per agire. Bene, Andrea Berta in queste settimane avrà molte cose da fare. Nel frattempo ha completato questo cambio di centramanti e credo che il suo fratello sportivo Diego Pablo Simeone sia molto contento di avere a disposizione Luis Suarez, così come credo che sia una figura perfettamente incasellata in quello che è il mondo atletico, perché innanzitutto è un altro uruguagio che arriva a sposare la causa dei colcioneros, e mi vengono da citare solo due esempi recenti, Godin e Forlan, diciamo che gli uruguagi con la loro garra cerrua si adattano perfettamente a quello che è il DNA dell'Atletico Madrid. In più Luis Suarez, al netto dei discorsi sul suo stato fisico, sulla sua carta d'identità, su tutte le cose che si tendono a dire, rimane uno dei realizzatori, oltre che uno dei centramanti più importanti che ci siano nel mondo del calcio. Quindi l'Atletico ha preso un super numero 9, in una posizione che era stata un po' problematica negli ultimi tempi, quindi già in questo senso è un'operazione sicuramente importante, ma è l'inizio di una serie di operazioni che l'Atletico Madrid farà in queste settimane. Nel frattempo è stata concretizzata l'uscita del terzino colombiano Arias, un altro che non ha reso l'Atletico Madrid, per quel che si pensava, è andato a giocare al Bayern e quindi la fascia destra della difesa dell'Atletico Madrid sarà affidata a Trippier, che è stato un acquisto invece buono della campagna scorsa, dell'estate di un anno fa, e a Versalico, che ha dato la dimostrazione di poter essere utile, tra l'altro traslocando a volte anche a sinistra, l'unico dubbio rimane sulle condizioni fisiche di Versalico, però l'Atletico si sente coperto in questo senso. Ora qualche ragionamento andrà fatto sul centrocampo e dalla Spagna dicono che sia molto vicina la possibilità per l'Atletico di portare a casa Torreira, obiettivo prima della Fiorentina, obiettivo del Torino, se ci arriva sull'Atletico Madrid penso che lo possa prendere. Anche in questo caso però bisogna sempre bilanciare uscita, ingresso e allora il giocatore che potrebbe uscire a centrocampo è Herrera, anche se la situazione attorno a Thomas, che ha molte pretendenti, potrebbe essere una situazione un po' complicata da gestire perché c'è una clausola che andrebbe a favorire senza possibilità di difendersi l'uscita di Thomas dall'Atletico Madrid. In più, forse non è finito il discorso degli attaccanti con Luis Suárez perché c'è la figura di Diego Costa. Diego Costa è sicuramente un simbolo dell'Atletico Madrid, però anche un giocatore che ha avuto dei passaggi un po' critici e da quando è tornato per la sua seconda tappa bianco-rossa non sempre è stato quello che ci si aspettava. Diego Costa potrebbe avere del mercato, l'Atletico Madrid non chiude assolutamente la porta tripla mandata ad una sua cessione, quindi se dovesse uscire Diego Costa l'Atletico andrebbe a cercare un altro attaccante e nel novero di figure potrebbero entrare anche dei nomi che ritornerebbero a coinvolgere il mercato italiano. Ve ne parlo fra poco perché comunque tutto dipenderebbe anche da quanto l'Atletico riuscirebbe a guadagnare da questo tipo di cessioni, non è assolutamente semplice, però potremmo avere non solo un nuovo attaccante all'Atletico Madrid, Luis Suárez, ma addirittura due. In caso differente, se Diego Costa non dovesse uscire, l'Atletico non si ritroverebbe sicuramente spiazzato o disperato, a quel punto lì avrebbe due figure di riferimento, a cui aggiungere Joao Felix, a cui aggiungere anche magari altri giocatori come Llorente che il Cielo Simeone ha trasformato in elementi d'attacco, per cui sarebbe completo così l'attacco dell'Atletico Madrid. Ma vado oltre, proprio perché a mio modo di vedere una delle figure che potrebbe rientrare nell'orbita atletico o comunque guardare allo scenario della Liga è la figura di Arek Milik. Milik che io credo si immaginasse all'inizio dell'estate con la maglia della Juventus. Poi la prospettiva non è mai realmente decollata, perché la Juventus ha cercato altri obiettivi, arrivando poi a prendere Morata. C'è stata la situazione con la Roma, sembrava fatta la settimana scorsa, Gheco alla Juve, Milik alla Roma, cifre anche non altissime, per questo che vi dico che potrebbe essere un elemento da prendere anche a cifre abbordabili per diverse squadre. Non si è conclusa neanche questa, perché ci sono delle problematiche da risolvere con il Napoli, però adesso sia il Napoli che Milik, credo, si stiano mettendo sempre più nell'ordine di idee che bisogna trovare una soluzione per non scontentare nessuno più che accontentare tutti, comunque per separare le proprie strade, perché l'attacco del Napoli ha preso tutt'altra forma e Milik non può permettersi di rimanere lì come corpo estraneo, ci sono anche gli europei alla fine di questa stagione, deve andare ad essere il protagonista da un'altra parte. Non so quali possano essere le destinazioni italiane e sicuramente si possono aprire delle destinazioni straniere. Si è parlato del Valencia, oltre che di possibili piste inglesi, il Southampton, il Newcastle, il Valencia è un club che per Milik potrebbe essere a livello tecnico, perché poi c'è una discreta barahonda dirigenziale anche non da poco tempo a Valencia, però a livello tecnico potrebbe essere una soluzione interessante. Perché il Valencia gioca con un 4-4-2, quello di Cavigrazia, che è un sistema solo apparentemente semplice, in realtà è un sistema con delle meccaniche molto interessanti sul piano tecnico ed è un sistema che può favorire un attaccante come Milik. Bisogna vedere se si andrebbe a ragionare in un'idea di coppia con Maxi Gomez, e io vedo una coppia fra Milik e Maxi Gomez credibile, una coppia che può stare sul campo. Sono due attaccanti veri, però sono due attaccanti anche mobili, non delle punte statiche, non dei centravanti esclusivi, diciamo. Quindi sono due giocatori che attraverso il lavoro di un uomo anche saggio, fine, di poche parole, ma di azioni chiare e dimostrate come Cavigrazia, potrebbero creare una partnership molto interessante. Per cui non sottovaluterei la possibilità Milik per il Valencia, ma non sottovaluterei neanche il fatto che Maxi Gomez possa essere venduto da questa proprietà, che continua a non comprare nessuno per la squadra e a cercare di vendere il più possibile. A quel punto sarebbe il sostituto sia di Rodrigo che di Maxi Gomez, fondamentalmente, andrebbe ad essere l'attaccante principale di una squadra che prenderebbe un altro colpo, però con Milik metterebbe comunque una figura di rilievo e importante all'interno del proprio roster. Per cui il binomio Milik-Valencia è un binomio che ho letto, non ho notizie da portarvi, anche perché, come sapete bene, non mi occupo di mercato in questo senso, ma è un binomio che potrebbe intrigarmi, così come l'eventuale, anche in questo caso una sensazione, una prospettiva buttata lì, l'eventuale presenza di Milik come nuovo attaccante dell'Atletico Madrid. Il calcio spagnolo mi sembra un calcio che possa attrarre e possa anche esaltare a Rekmilik. Vedremo quel che succederà. Nel frattempo siamo abbastanza sicuri, almeno, di altri ribaltoni, anzi sicuro è la parola più sbagliata possibile da associare alla situazione di Gieco, però in questo momento sembra che si sia di nuovo assestato il tutto e che Gieco rimarrà alla Roma, dopo essere stato venduto praticamente per la terza volta negli ultimi tre anni. Doveva andare al Chelsea, era già tutto fatto, non c'è andato, doveva andare all'Inter, era già tutto praticamente fatto, non c'è andato, doveva andare alla Juventus, è stato tenuto in panchina alla prima Verona, non ha neanche messo piede in campo perché era un'operazione che aspettava solo di essere neanche ratificata ma comunicata e invece la Juventus ha preso Morata, di conseguenza Gieco si ferma in una Roma che oltretutto sta vivendo giorni estremamente caotici e anche un po' deprimenti perché tutto quello che è successo attorno alla partita di Verona è un qualcosa che insomma segna un ambiente che si aspetta cose diverse, magari anche una nuova proprietà che potrebbe essere un po' arrabbiata per quello che trova, anche se la ricostruzione dovrà essere completa e attenzione perché si vocifera anche della possibilità di inserimento di figure che nella Roma non sarebbero figure silenziose o figure diciamo così marginali perché se dovesse tornare Francesco Totti all'interno della Roma sarebbe sicuramente un qualcosa che andrebbe a creare delle situazioni poi palpabili, poi incisive, ma nella situazione del centravanti capitano Totem, miglior giocatore, punto di riferimento assoluto della Roma, ovvero è di Gieco, è una situazione ancor più pressante e ancor più importante oltre che pesante in questo momento. Sicuramente per Fonseca e la figura di Fonseca è una figura messa molto in difficoltà da questa situazione, è una buona notizia perché se fosse andato via Gieco si poteva rimpiazzarlo e ne abbiamo parlato in un video dedicato con una figura come Milik che sarebbe stata la miglior soluzione possibile a questo problema, ma la miglior soluzione possibile, non una soluzione che avrebbe garantito lo stesso tipo di livello. Rimanendo Gieco ecco il problema non si pone, forse, perché comunque va considerata anche la situazione psicologica di un giocatore che si è sempre dimostrato, oltre che un calciatore straordinario sotto tutti i punti di vista, anche un professionista impeccabile, perché appunto Gieco è stato venduto o dato per venduto tre volte negli ultimi tre anni e si è sempre ripreso la Roma sulle spalle, dimostrando ogni volta qualcosa di più sul piano della leadership, sul piano della partecipazione, sul piano tecnico, per cui da questo punto di vista a Gieco andrebbe fatto solo un monumento, però Gieco è anche ovviamente un essere umano, un professionista, un uomo che sa di essere diciamo alle battute conclusive della sua carriera, che può durare ancora diversi anni, ma sicuro non un decennio, e quindi questa situazione psicologicamente potrebbe andare ad incidere. Vi parlo di possibilità, neanche di sensazione che possa andare così, però la possibilità che psicologicamente questo ennesimo passaggio frustrato, questo ennesimo cambio di situazione, potrebbe avere qualche strascico sulla testa, sulla psicologia di Gieco. Solo il campo ce lo potrà dire. Se vi devo dire la mia sensazione, per quel che conta, è la sensazione che Gieco comunque si dimostrerà sempre ad ingieco, e che quindi per la Roma questo mancato addio sia un sospiro di sollievo. Però, ripeto, il protrarsi e il susseguirsi di questo tipo di scenari è un qualcosa che va considerato per una squadra che ha bisogno ancora di sistemarsi dietro, perché Fonseca vuole Smalling, e Smalling continua a non essere convocato dal Manchester United, ma continua anche ad essere tassato 20 milioni dagli inglesi. E la Roma ha preso Cumbulla, che è un giocatore che sicuramente da prospettive future, ma che a sua volta avrebbe molto bisogno di uno come Smalling al fianco per potersi adattare, per poter germogliare e per poter migliorare quelli che sono ancora aspetti un po' critici del calcio di Cumbulla, che non è velocissimo, che in certe impostazioni deve migliorare, ma è normale parlando di un ventenne, un ventenne comunque di ottimo valore, come ha già dimostrato nella sua stagione con Lellas Verona. Per cui ecco, la Roma mette a posto un tassello, trattenendo Gieco però, le cose da mettere a posto in casa Roma mi sembrano ancora veramente, veramente molte, e nel frattempo domenica c'è Juventus-Roma, quindi una partita che avrà tanti temi da portarci. All'interno di un weekend di campionato che si aprirà sabato pomeriggio, che si chiuderà lunedì sera e che avrà tante conferme da darci e tanti incroci estremamente gustosi da vivere, per cui andiamo verso un weekend di Serie A molto molto scoppiettante, molto molto caldo. Nel frattempo abbiamo una settimana in cui non solo ci saranno altre situazioni sorprendenti di mercato come quella di cui abbiamo parlato oggi, ci sarà anche da parlare dell'arrivo di Vidal all'Inter, sicuramente lo farò durante la settimana, per le modifiche che porta una figura come il King Arturo e anche per le dichiarazioni di intenti che l'Inter e Antonio Conte stanno dando con questo tipo di mercato, vi prometto un video in settimana sull'Inter. Ma al di là del mercato ci sono anche delle partite importanti a livello internazionale, perché il Milan scende in campo ancora per il suo secondo turno preliminare, che poi sarebbe il terzo a livello formale, comunque la partita di giovedì sera contro il Böte Glimt in Europa League. Squadra brillante, quella dei norvegesi, con un paio se non tre talenti da tenere d'occhio, per cui parleremo anche di questa partita. Vi parlerò di sicuro della Supercoppa europea, perché giovedì sera si gioca il match fra i campioni d'Europa, i vincitori della Champions League, Bayern Monaco, e i conquistatori dell'Europa League, il Siviglia, è una partita che non vedo l'ora di seguire, di gustare, per cui sicuramente venerdì parleremo anche della Supercoppa europea e dei primi campioni stagionali a livello internazionale dell'anno. Il calcio sta giocando un po' dappertutto, c'è stata una settimana, direi decisamente, pirotecnica in Coppa Libertadore, se appena avrò tempo tornerò a parlarvi anche di Sudamerica, che è uno scenario che tengo sempre sott'occhio, soprattutto molto all'interno del mio cuore, tanti argomenti, ci vedremo tante volte e parleremo di tante cose durante questa settimana, qui, insieme, sul nostro canale. Vi aspetto prestissimo.